Musica Musica Sì, certo, anche tu puoi avere la tua soddisfazione. Gioca a football americano, vieni a giocare con noi, vieni nella nostra squadra e vedrai che le soddisfazioni non mancheranno. Benvenuti alla prima puntata di A come Angels. Torna quindi l'appuntamento su Rossini TV con il football americano. Approfondimenti, interviste, conosceremo meglio i protagonisti di questa squadra che ha fatto la storia di questa disciplina in città. C'è stata una settimana di riposo dopo la prima vittoria, l'esordio molto bello davvero contro i Doves Bologna in cui gli Angels hanno sciorinato una prestazione eccellente e adesso andiamo verso la partita contro i Braves che si giocherà invece domenica prossima alle 14.30. Siamo con l'head coach dei Ranocchi Angels, Alessandro Angeloni, già disputata la prima di campionato con un bellissimo successo contro i Doves di Bologna. Ecco, siete usciti penso con rinnovata fiducia, visto che quando si debutta non sa mai cosa può succedere. Sì, infatti avevamo molti dubbi, per fortuna non avevamo dubbi sull'impegno e l'entusiasmo che ci mettono questi ragazzi e quindi abbiamo lavorato bene le ultime settimane soprattutto e eravamo coscienti di poter far bene. Avevamo anche studiato i loro filmati perché avevano giocato un'altra partita loro e quindi avendo preparato bene la partita eravamo fiduciosi. Però sai, come giustamente dici tu, non sai mai la prima partita cosa succede e invece è andato tutto bene. Senti, il football americano è un gioco che si basa molto sulla tattica e tu hai detto che avevi approfittato del fatto che i Doves avevano già giocato una partita per studiarli. Che cosa hai preparato in particolare? Che è riuscito? Perché una delle soddisfazioni per un allenatore è fare un piano partita e vedere che sul campo poi viene applicato. Sì, come tu sai noi siamo un team tra gli allenatori, no? E quindi ci sono gli allenatori dell'attacco che hanno sistemato i nostri giochi d'attacco sulla loro difesa. La nostra difesa che ha studiato il loro attacco e quindi ha preso tutte le contromisure. Io ho dato una mano con gli special team e anche quelli, devo dire, hanno funzionato molto bene. E alla fine il lavoro di tutti si è riunito in questa bella prestazione che è terminata con una vittoria. Se dovessi dare la palma dell'MVP so che agli allenatori non piace mai parlare dei singoli però magari un giocatore che diresti ha fatto una grande partita? È difficile, infatti noi abbiamo eletto gli MVP delle partite e non siamo riusciti a eleggere meno di tre per attacco e tre per difesa perché effettivamente hanno tutti giocato una grande partita. Vuoi ricordarli gli MVP dell'attacco? Sì, dunque della difesa sono stati Antonio Ferri, Francesco Rossi, Gallo Matteo e poi per l'attacco invece Lorenzo Troisi, Tommaso Maltoni e Gualtiero Zito. A proposito di questi ragazzi che hai citato, ci sono alcuni che tu hai detto giocano il doppio ruolo. Quanto sforzo ci vuole a ricoprire il doppio ruolo, cioè giocare sia con l'attacco che con la difesa? È molto faticoso, soprattutto in certi ruoli. Lolo Troisi ha fatto un po' di doppio ruolo, ma Gerry ha fatto qualche azione attacco. Cerchiamo di ridurli proprio al minimo perché comunque è sempre più a rischio infortunio uno che fa un doppio ruolo, quindi cerchiamo di fargli fare il meno possibile. Però purtroppo essendo in pochi abbiamo delle posizioni un po' più scoperte in cui i giocatori di esperienza possono darci più fiducia, poi magari le nuove leve gli danno il ricambio e quindi riusciamo a non fargli fare una partita intera, a fare il doppio ruolo perché effettivamente è faticoso e in più, come ti ho detto, è più a rischio infortuni. Il calendario vi ha regalato una settimana di riposo e anche per preparare bene questa seconda sfida che vi vede di nuovo impegnati in casa, quindi al campo scuola di Via Respighi, contro la seconda squadra di Bologna, i Braves, che però non sono altrettanto temibili. Ecco, problemi di concentrazione potrebbero esserci? Speriamo di no, anche perché in realtà la loro forza non la possiamo misurare perché non si sono scontrati direttamente con quelli che abbiamo già incontrato, quindi diciamo che dai filmati che abbiamo anche questi studiato abbiamo visto cosa possiamo fare e che sono comunque alla nostra portata, però non possiamo sottovalutarli perché nel football è molto pericoloso prendere sotto gamba l'avversario perché comunque basta qualche azione storta e la partita può prendere una brutta piga, quindi noi dobbiamo essere concentrati dall'inizio, affrontarli come una squadra forte perché comunque hanno di buoni giocatori e quindi questo è un punto su cui lavorerò con i ragazzi. Siamo con Francesco Rossi, uno dei volti più giovani degli Angels, allora se vuoi raccontarci quanti anni hai, da quanti anni giochi a football e soprattutto chi ti ha portato a praticare questo sport? Ok, io praticamente ho 28 anni e gioco a football da 4 anni circa e niente, sono venuto a giocare a football grazie da amici e dopo mi sono appassionato ed è nato un amore, diciamo dai. Senti, perché il football americano e non il basket, non il calcio che vanno per la maggiore in città? Perché è un gioco più di contatto, forse più di cuore, più di sacrificio, bisogna lottare anche per un solo centimetro e non è un classico banale tiro alla porta. Quante volte ti sei fatto male e se ti è successo, hai mai pensato, basta non gioco più, smetto? Mi sono fatto male diverse volte, due anni fa ho rotto il ginocchio, però non ho mai detto smetto, la passione è troppo forte, non si transige. Senti, che cosa ti piace più che altro quando sei in campo? Qual è la sensazione più forte? La sensazione più forte è l'adrenalina, quella assolutamente, la voglia di vincere, di sopraffare l'avversario, di dimostrare che sono più forte, quella assolutamente la migliore. Tu giochi in difesa, raccontaci qual è il tuo compito, cosa devi fare quando entri in campo. Il mio compito è fermare l'attacco avversario, quindi placare chi ha la palla e cercare di fargli prendere il meno yard possibile, questo è. E la prima partita come è andata da questo punto di vista? La prima partita è andata molto molto bene, abbiamo vinto grazie anche alla difesa che secondo me ha fatto una grandissima partita e quindi dai, molto bene. La fiducia sicuramente è aumentata, andate verso questo secondo impegno, sempre con una squadra di Bologna, forse meno forte, quindi bisognerà stare un po' più concentrati magari. Sì, assolutamente, bisogna prendere la sottogamba, meno forte vedremo e dai, ce la giocheremo fino alla fine. Siamo con Lorenzo Troisi, una colonna degli Angels, da quanti anni pratichi questo sport? Io gioco dal 2009, ormai questo mi pare sia il quindicesimo campionato, quasi continuo, dopo ho dovuto lasciare per qualche anno per via del lavoro e un infortunio sempre in partita, però ecco, diciamo che sono una quindicina d'anni che gioco. Qual è la molla che ti spinge a praticare ancora questa disciplina così impegnativa, così dura anche fisicamente? Sicuramente la squadra, la squadra e la società, quella è una molla molto importante perché è un gruppo veramente unito, motivo per essere veramente contenti di uscire di casa anche se magari uno dice il tempo freddo, nebbia, pioggia, si sta bene, però si sta bene molto al campo con i compagni. L'adrenalina e le botte prese, le botte date, tutto questo fa parte di quella spinta che ti fa continuare. Ci vuole anche molta tenacia venirsi allenare a quest'ora, sapendo che finirete attorno alle 22.30, 23.00, anche come ci si organizza? Si mangia prima, si mangia dopo? Perché uno se arriva qui senza essere un po' sostenuto, insomma è dura. In linea di massima si dovrebbe mangiare prima, c'è chi mangia prima, anche un'orete e mezza, un paio d'ore prima. Io personalmente mangio a fine allenamento, arrivo qua, chiaramente che qualcosa ho mangiato e non posso arrivare scarico, anche perché dopo, come dicevo prima, le botte si danno, le botte si prendono, ma se arrivi in scarico le botte le prendi. Senti, da te lo sport è un fatto di famiglia, hanno giocato in tanti, insomma voglio dire i troisi e la dinastia, no? Ah sì, il babbo è stata la prima molla, quello che mi ha spinto al tempo a iniziare a giocare a football, anche se papà non era contento perché sapeva cosa sarei andato incontro, ed è quello che comunque mi spinge oggi a continuare ad essere in campo, oltre alla squadra, è il suo ricordo, insomma, il voler dimostrare, nonostante tutto, che un troisi ancora può giocare a football. Questo numero che porti ha un significato particolare? Allora, su questo qui, la maglia di allenamento, niente particolare. Il mio, il 48, è il primo numero che mi hanno dato e mi ci sono legato particolarmente, tant'è che l'unico campionato che ho giocato con la maglia diversa è il 44, poi mi sono fatto male al ginocchio, quindi teniamo assolutamente il 48. Senti, tu sei uno dei giocatori che gioca il doppio ruolo, quanto è faticoso e poi cosa ti piace di più, l'attacco o la difesa? Faticoso è faticoso. Ci sono, almeno all'inizio della partita, c'è quel momento in cui vorresti dire quasi quasi esco, poi dopo. Se sei veramente tenace, sei attaccato a questo sport, almeno io lo sono, vorrei non uscire mai dal campo. E così è, fondamentalmente. Attacco-difesa, sono partito come attaccante quando ho iniziato a giocare, sono diventato difensore linebacker negli anni, per necessità sono tornato in attacco e adesso devo dire che l'attacco è il mio nido. Mi ci trovo al sicuro, mi ci trovo bene, insomma da gusto segnare quando si segna, da gusto comunque correre yard, da gusto essere quello che tutti quanti cacciano. Questa è quella adrenalina che anche questo ti spinge e ti porta a continuare a giocare. Che sensazione si prova quando si appoggia la palla e sai che hai fatto touchdown? È una sensazione forte, molto forte, è una soddisfazione unica. Purtroppo non si può neanche festeggiare più di tanto perché se si potesse sono sicuro che tutti quanti... Avresti la maglia? No, la maglia no, quello no. Però lo farebbero vedere tutti cos'è veramente segnare un touchdown. Anche perché, ripeto, ci sono giocatori con la bava alla bocca che cercano di non farti raggiungere l'endzone e quindi raggiungerla è uno smacco ancora più grosso, insomma, rende molto, rende molto. Ultima cosa, domenica contro i Braves, cosa è la cosa più importante che dovete fare? Vincere, è la cosa più importante. Anzi, come diceva lui, il coach Lombardi, la cosa più importante è vincere tutto. Comunque sicuramente dovremo stare lì con la testa, concentrati, perché è fondamentale in questo sport la concentrazione. Per quanto sia uno sport fisico, tutto deve essere un meccanismo regolato alla perfezione. Quindi ecco, la concentrazione è quello che ci serve. Siamo con Enrico Aguzzi, il quarterback dei Ranocchi Angels, un ruolo molto importante, chiave di cui parleremo. Poi, prima però vogliamo sapere chi ti ha portato a giocare a football americano, come ci sei arrivato? Allora, io sono un appassionato di football da tanto tempo. Ho iniziato comunque tardi a giocare, quando il football sbarcò a Fano circa 11 anni fa. Quindi, diciamo che mi ci ha portato mio fratello, che all'epoca giocava e aveva iniziato prima di me. Ho avuto il piacere di iniziare a praticare questo sport a 31 anni. E spero che il fisico mi aiuti a farlo finché l'età me lo permette. Parliamo di questa cosa. A football si può giocare, per regole della federazione, fino a 48 anni. Ma non sono dei pazzi? Non lo so, non saprei cosa rispondere. Fortunatamente, se sono pazzi, lo sono, perché così ci permettono di andare avanti a lungo. Poi, diciamo che è uno sport che se uno si cura fisicamente, è praticabile a finalità di 48 anni. Ovvio, poi dipende dal ruolo, da come uno si comporta nella vita di tutti i giorni, per riuscire ad arrivare ad una carriera più lunga possibile. Senti Enrico, tu hai cambiato ruolo e adesso hai in mano quella che possiamo dire la regia. Che cosa sono le qualità più importanti per un quarterback e come ti trovi in questo ruolo? Allora, io mi trovo molto bene. Diciamo che per l'amore di questo sport, per la squadra e per la società e gli sponsor che ci permettono di giocarlo, sono disposto a giocare qualsiasi ruolo. E l'ho fatto in questi cinque anni agli Angels, sia in attacco che in difesa, quarterback, ricevitore. Faccio tutto quello di cui c'è bisogno, molto volentieri, al meglio delle mie possibilità. Per fare il quarterback in particolar modo ci vuole intanto molto allenamento, sia psicologico oltre che fisico, perché comunque bisogna ricordarsi tanti schemi, bisogna ricordarsi tante particolarità del gioco, saper leggere la difesa e ci vuole un'estrema tranquillità nel momento del gioco perché non bisogna essere tesi e non è sempre facile farlo, soprattutto quando hai degli energumini che ti danno la caccia per il campo. Però con dei buoni allenatori come quelli che abbiamo si riesce ad affrontare bene anche questo ruolo. La tua statura comunque può aiutarti un po' ad avere la visuale quando devi lanciare? Sì, sicuramente la mia statura mi dà una mano, anche se poi con pad, caschi e tutto a volte non è così semplice guardare oltre la linea d'attacco, però sì, sicuramente la stazza, l'altezza dà una mano per avere una visione di gioco completa. Senti, la prima partita è stata un successone, non ci aspettavamo un debutto così brillante. Cosa è stata secondo te la cosa più importante della vittoria contro i Doves? Allora, la cosa più importante è stata intanto la fiducia che ci ha dato questa vittoria e soprattutto la prestazione della difesa che, se gioca così, sia negli special team che nella difesa stessa dà sicuramente una mano e una grande sicurezza all'attacco e quindi ci fa entrare in campo un pochettino più rilassati. Però è stato bello vedere il mordente di tutti i ragazzi che hanno messo in campo, è stato veramente un bel approccio alla gara. Pronostico per domenica contro i Braves? Io ho pronostici, non ne faccio mai, non sottovaluto mai un avversario perché finché non si gioca una partita non si vince mai, quindi mi auguro di poter ripetere, possiamo ripetere la prestazione di domenica scorsa e spero vivamente in una seconda vittoria in casa. Abbiamo scoperto così le storie dei giocatori, degli Angels e continueremo a farlo nel corso delle prossime puntate quindi non perdetevi la prossima puntata di Acome Angels venerdì prossimo alle 21.20 ma soprattutto vi aspettiamo al campo scuola di Viare Spighi domenica alle 14.30 per la grande sfida contro i Braves Bologna. Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti!